Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con Batman Arkham Knight! Chi è che piange? Harley? Questa la chiami una veglia? Dove sono tutti? Ah, mi sei scordata gli inviti, vero? Harley? Smettila di frignare e organizza una veglia! Harley? Harley? Ma perché non ci sente? Non ci sente, raga? So cosa tenti di fare, Batman! Tu e la tua tossina! Pensi che la cosa mi spaventi? Che cacchio sta succedendo? Buonasera Gotham, con Vicky Vane! E... Glenn Woodburn? Dunque Glenn, oggi è l'anniversario della morte di Joker. Hai qualcosa da dire a riguardo... E chi sarebbe? Joker! Te lo ricordi? Il tizio del punto interrogativo? È morto? No, non lui! Scusa Vic, dammi una mano! Sai che ti dico, non fa niente! Scordiamoci di lui e andiamo avanti! Sì, scordiamoci di lui e andiamo avanti! Per la cronaca, oggi a Bleak Island è stato inaugurato un museo dedicato all'arci nemico di Batman, il Pinguino! Oh, credi che quello sia terribile, Batman? Quando uscirò scriverò il mio nome col sangue in ogni strada! Lo inciderò in ogni catavere! Farò, farò... Nessuno si dimenticherà di me! Allora, come faccio a uscire da qui? Adesso lo troviamo il punto! Sfonnammo tutto! Ma dove sei? Allora, qua non c'è... Oh, eccolo! Ehi, fuori! Oh! Ti troverò! Fatti vedere! Ti aumentano! Hai finito le idee, Batman? Qua, mi sappia un attimo l'ansia, regà! Non so voi! Ok! Questa sfonda a tutti! Servirà qualcosa, che dite? Oh! Oh, cacchio! Oddio, Batman! È stata una bella corsa! Ma io scendo! Uscita! Così semplice? Possibile, regà! Che dopo sto delirio sia così semplice? Sai, mi hai quasi fatto morire dallo spavento, Batman! Morire? Eh, ma di cosa dovrei aver paura? Cacchio! Hai paura di diventare cegre? Hai paura di essere dimenticato? Eh sì, tu verrai dimenticato, Joker! Per causa mia! Io sono la vendetta! Io sono la notte! Io sono Batman! A, X e A, Capone! Dai, manalo dentro! Manalo dentro! Su, 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 su! A posto! Non bevo fare in modo che non si... No, ti prego! No! Addio, Joker! No! Bruce! Non lasciarmi! Ti prego! Ho bisogno di te! Wow! Riaccoci! Hai capito bene, Gotham! Nessun salvatore! Nessuna speranza! Nessun Batman! Ho vinto! Non ho paura, Kreyne! Impossibile! Senza paura la vita è insignificante! No! Invece sì! Che succede? Hai paura? No! 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 No? È forte. Vedrai se la caberà. Prenditi cura di lui. Di tutti loro. Sei stato un buon amico. Il migliore che possa esistere. Al mio fianco dall'inizio. E ora... vedrai come va a finire. È il tuo miglior regalo stanotte. È venuto qui, non ci credo. Quindi Bruce Wayne, eh? Se per te va bene. Io continuo con Batman. Sembri spaventato, Crane. Facci l'abitudine. Sir, è... È la fine. Ora il mondo intero lo sa. Che facciamo? A Gotham serve ancora Batman. Per un'ultima notte. E poi? Prepara il protocollo Nightfall. Ne è sicuro? Non c'è altro modo, altri. Serve una conferma vocale. Marta. Bene, signorinobrus. Stia certo che le sue istruzioni saranno seguite. E quindi? Concept art e trofei. Nuova storia disponibile dal menu principale. Nuova modalità di gioco sbloccata. Conta la rovescia per Nightfall. Cattura e ricercae di coda per mettere al sicuro la città e attiva il protocollo. Mi seleziona missioni. Ah, però so, quelle là finite. Combattimento. Vedetevi vedere. Corsa Batmobile. Progressi completati. Predatore. Lotta. Affronta questi scontri. Affronta il frizionale vettorale in combattimento. No. Addestramento. Per il predatore. Ibrida. Impara come sfruttare al meglio le caratteristiche della Batmobile. Metti alla prova il combattimento. Corsa la Batmobile. Questo che ha? 0 di 69. Missioni ricercati. No, io volevo vedere le missioni principali. Eccolo. Cattura altri 7 ricercati di Gotham per attivare il protocollo Nightfall. Quindi questo qui al 100%. Possibile città di la paura. Sconfiggi lo spaventavastra e consigliati giustizia. Però se in caso faccio cattura 7 altri ricercati per attivare il protocollo Nightfall. Bene signorino Bruce. Minaccia sventata. Questo parrebbe il momento ideale per riprendere il controllo della città. Però mi dice 100% ragazzi. Quindi dovrebbe essere finito. Così? Senza un finale? Boh. Vabbè. Regà facciamo una cosa. Se io controllo se veramente è questo il finale di Batman Arkham Knight. Voglio vedere se devo veramente fare qualche altra cosa. Amo lo vedo dal menu principale. Se il video vi è piaciuto e questa serie vi è piaciuta. E comunque intanto vi ringrazio per averla supportata. Perché è stata secondo me una delle mie più belle serie. Perché è stato un gioco a mio avviso fantastico. E quindi se il video e la serie vi sono piaciuti come ho visto. Continuate e iscrivetevi sul mio canale. Mettete un bel mi piace al mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.